Buonasera a tutti ragazzi, questa sera ho deciso di fare un video per mostrarvi tutti i miei petardi da collezione, petardi molto antichi ma anche qualcuno contemporaneo. Il mitico svedese Elvis A81, Minerva della Mele, Raudo tipo C dell'Avidiano, prima e seconda versione, Raudo C1 sempre della Viviano, classico Raudo Viviano, Raudo C1 Martarello, Megafiesta primo e secondo modello, Cicciolo della Borgonovo, Sandogan della Manna primo e secondo, Fiesta della SNI, Viperro 1, Raudo Man, Rompirò della Borgonovo, il classico Pirato della Viviano, bellissimo, Morgan della SNI, molto rari questi, bellissimi. poi abbiamo un Magnum cinese, un Magnum della LV, è un Raudo C2 Martarello, Mirage della Viviano, 3 grammi, bellissimo, Magnum originale testa nera, produzione Chandri, Mega della SNI, Zeus della Viviano, Zeus Mele della Pilotecnica Castellano, Mephisto Manna prima e seconda versione, Viperro 2 della Di Blasio, Diablo della Di Blasio, Zeus di Blasio, Black Gobbre sempre di Blasio. poi abbiamo il Megadresk Explore, che non è un petardo italiano, però è un petardo molto bello, 3 grammi di materiale attivo, molto potente, bellissimo, comunque questi tre sono petardi diciamo contemporanei che fanno adesso, anche il Cobb AP1, in categoria AP1, come lo Zeus, diciamo sempre della Di Blasio, poi abbiamo qualche scatola di Raudi, grazie a tutti, guardiamo a Parish riduce, grazie a tutti i nuovi reggi aspetti, grazie a tutti i mesi aspetti. ok, ciao bello, devo essere capito, grazie a tutti i amano, per migliare il ragazzi spero che il video vi sia piaciuto per eventuali scambi di pedardi che vi interessano con dei pedardi che non vedete mi potete contattare grazie e ciao